l'otto 204 cartoline di messina e provincia questa è prima del disastro però evidentemente è una ristampa successiva al disastro questa è viaggiata questa è una fotografica viaggiata per la ricetta di sottotitoli e la ricetta di sottotitoli se volete video foto o altre informazioni scrivete a filatelia chiocciola 4 baiocchi.com